Ciao a tutti, sono Emma Ceglie e sono un'appassionata fratrice di jazz. Ho aderito anch'io alla campagna abbonamenti solidale Jazz It perché ritengo che i sentimenti veri debbano tradursi in gesti concreti. Penso che amare davvero significhi proteggere, avere cura, sostenere e questo vale anche per la musica jazz. Nel momento storico in cui viviamo non basta solo affermare di essere dalla parte di chi divulga cultura. Oggi più che mai occorre contribuire a supportarla attivamente, ognuno come può chiaramente, acquistando per esempio un cd, un ticket per un concerto in streaming o come in questo caso sottoscrivendo un abbonamento solidale. Ecco, secondo me questo significa davvero fare la differenza tra il semplice dire e l'agire. Da sempre sono convinta che ciascuno di noi nel suo piccolo possa essere un mecenate moderno e sentirsi orgogliosamente parte di un'idea, di una missione, nella fattispecie parte del futuro di una rivista come Jazz It che sa raccontare il jazz sia al raffinato cultore che al neofita. Ecco, il Jazz It intorno a sé riunisce persone prima che abbonati, persone tutte profondamente convinte del valore etico, sociale ed educativo del linguaggio del jazz. Sostieni anche tu, Jazz It, perché che si ascolti o si legga, il jazz produce sempre intense vibrazioni.